Cantante mascherato, Nimo Frassica arriva vestito da Cecchini e annuncia Don Matteo XIV. Nella puntata del cantante mascherato di sabato 25 marzo, ancora prima dell'inizio della gara si assiste ad un'irruzione inaspettata. Dalle scale, infatti, si vede arrivare Nimo Frassica vestito da carabiniere, vestendo i panni del maresciallo Cecchini. L'iconico personaggio da lui interpretato in Don Matteo. Non è certo un caso, che si sia presentato accompagnato dall'inseparabile Ghisoni e da Simone Di Pasquale in divisa. Una seconda puntata scoppiettante per Millie Carlucci che ha il compito di tenere le fila di una giuria già particolarmente calda per l'inizio della serata. Dopo aver ottenuto il premio della maschera d'oro per aver indovinato la presenza di Sandra Milo nella maschera del cigno. Che consentirà loro di avere dei vantaggi, come ad esempio, quello di poter smascherare alcune delle maschere ancora in gara. Prima che ci sia l'esibizione che apre ufficialmente la competizione, è il momento di accogliere in studio Nimo Frassica i suoi fedeli accompagnatori. L'attore è comico siciliano e rompe con la sua ironia dirompente facendo esultare il pubblico e si dirige verso il bancone dei giurati, ma qui... Sbaglio, o vedo il capitano Anceschi rivolgendosi a Flavio Insinna che, in effetti, ha ripreso le vesti del noto capitano già nella scorsa edizione della fiction di Rai 1. Ed ecco spiegata la presenza di Frassica, o meglio, del maresciallo Cecchini in puntata. Mi hanno detto che qui c'è la Natalina di Don Matteo. Ho lasciato Gubbio per venire a Roma e dirvi che dopo domani il 27 marzo inizia Don Matteo 14. Gli appassionati della nota fiction di Rai 1, quindi, sono pronti a ritornare davanti al piccolo schermo per seguire le avventure di Don Massimo. Interpretato da Raúl Bova, dal momento che Terenzil ha lasciato l'abito talare dell'iconico Don Matteo. Questo cambio di protagonista, però, non ha inficiato il successo della serie che è stata seguita e si spera che anche la quattordicesima stagione abbia lo stesso successo. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te mint, casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp, așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafonul și acum rap-ul e moda ori, nu așa-i, și zici că stom ford la cum mă comport, întreaba asta lui loc de confort, rigor și-o mor tot, sunt un crucișător, lansă rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta, rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol, nu tac nici strins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile ma-